Incredibile come le persone, le stesse persone che hanno sempre attaccato i miei figli e alcune di loro non hanno nemmeno mai avuto a che fare con la mamma, cioè io. Incredibile come invece poi per ripulirvi la faccia con il nemico del momento fate finta di difendervi. Ve l'ho chiesto con più post, con video, con live di lasciarmi in pace e oggi trovo un altro post di una persona che con me non ha mai avuto a che fare, non la conosco proprio, che difende mio figlio per attaccare la sua nemica di turno. Ma non vi fate un po' schifo, così, a voi, dei miei figli non vi interessa un cazzo, perché poi altrimenti certe live dove si offendono i miei figli non vi trovereste o quantomeno ci stareste solo per segnalare la live in riguardo. Perché l'indignazione a convenienza dice molto più di voi che della persona che volete attaccare al momento. Grazie.